Un salasso per i cittadini di Monte Carlo. Secondo il gruppo di opposizione Monte Carlo è bellissima, la giunta Fantozzi è stata costretta a ricorrere a quella che definisce una spremitura fiscale che dipende in larga misura dal disastroso governo di centrodestra che negli ultimi anni ha portato ad un deficit di oltre un milione di euro, con aumenti che vanno dal 60% per l'addizionale IRPEF al 140% per l'IMU, la nuova tassa sulla casa che va a sostituire l'ICI. Un attacco durissimo dopo che il Consiglio Comunale di lunedì ha approvato il bilancio preventivo. Secondo la minoranza è difficile uscire dal tunnel perché sul comune gravano molte cause pendenti con il rischio di centinaia di migliaia di euro di risarcimenti. Secca la replica dell'amministrazione. La minoranza cita numeri a caso, in realtà scrive in una nota questa amministrazione ha confermato l'aliquota del 5 per 1000 sulla prima casa insieme al fatto che oltre alla detrazione di legge sull'abitazione principale ha sempre previsto detrazioni per i nuclei formati da ultra 65 anni, aumentando di anno in anno il limite di reddito degli aventi diritto. Dunque, secondo la Giunta, per la prima casa nulla è cambiato. Per il resto sono stati contenuti gli aumenti per le abitazioni diverse dalla prima e per le altre tipologie, senza contare che molti aumenti sono stati praticamente imposti dal governo in carica. Di fatto, l'amministrazione non accetta che si cerchi di far passare l'immagine di un comune che tassa. Per dieci anni, conclude, abbiamo ottenuto tariffe e tasse al minimo, ad esempio per i buoni pasto come per i trasporti scolastici, per venire in conto alle esigenze delle famiglie. Questa tendenza è stata osservata per tutte le altre voci di imposizione.